numero 5 questa tavoletta da surf gonfiabile per bambini è realizzata in materiale leggero e resistente design pieghevole e gonfiabile comodo per il trasporto la tavoletta si gonfia facilmente disponibile in tre colori le maniglie progettate su entrambi i lati garantiscono la sicurezza in acqua e forniscono un controllo perfetto adatta per godersi le onde la piscina o per imparare a nuotare divertimento assicurato per i più piccoli trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 piccola tavoletta da surf comoda da usare stabile e sicura in acqua forma ergonomica comoda per i bambini dotata di camera d'aria indipendente più sicura e durevole utilizzabile anche dagli adulti tavola da surf perfetta per rilassarsi in piscina o a mare disponibile nei colori celeste e rosso realizzata in materiale antiscivolo con maniglie in plastica per una presa migliore misura 72 centimetri per 62 trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 tavoletta da surf gonfiabile realizzata in materiali di alta qualità il design concavo della tavola riduce la pressione sul petto le maniglie garantiscono una presa sicura i colori vivaci garantiscono una buona visibilità in modo da poter osservare facilmente i vostri bambini la tavola è leggera e portatile occupa pochissimo spazio disponibile in diversi bellissimi colori misura 78 centimetri per 42 ottima idea regalo per i bambini divertimento assicurato se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 tavoletta da surf realizzata in materiale sicuro e durevole comoda e leggera da trasportare perfetta per il nuoto misura 72 centimetri di lunghezza e 52 di larghezza dotata di valvole di sicurezza facile da gonfiare e sgonfiare adatta per nuotatori principianti o bambini per esplorare la sensazione di surf nelle onde vicino alla spiaggia ottimo articolo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 tavola da surf per bambini con maniglie l'articolo ha una finestra di osservazione per vedere la situazione sott'acqua adatta a bambini dai sei anni in su questa tavola gonfiabile è realizzata in materiale morbido resistente ed ecologico dotata di una valvola di gonfiaggio stretta senza perdite facile da trasportare dopo lo sgonfiaggio occupa poco spazio perfetta per il relax in piscina o al mare ideale per i bambini per divertirsi in acqua o semplicemente per rilassarsi al sole bellissima idea regalo se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione ciao 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 Grazie a tutti.